Dicete, in che percentuale più meno è usare il grado che il servitore di personale ha? Che significa 93, 95, quindi il consigliere con questo ci dice, si parla 93 percentuale. Significa che quella del servitore devanzata da questo punto di vista. Certo, già dalla principale, un bel interno che non ha fatto il faccio. E qui va a prendere le forze della sua coscienza. Ma questa è una famosa caratteristica. E' un'idea, no? E' un'idea, no? E' un'idea, no? E' un'idea, no? E' un'idea. Se non fosse diventato da lei, come consigliere mentale, l'incluso delitto che aveva accettato di postare avanti e quello di non fare nulla e di lasciare le altre positive, e... ...la presentazione di un'ottima proposta. E' ovviamente il senso di ciò che diceva, che vuole una parola simonica. perché è proprio una delle priorità assoluta sul territorio di Cassogna, e quella di diventare unico e sviluppo di attività. E' il motivo che tu, in inizio dei lavori pubblici, quando c'è la connessione dei lavori pubblici, perché faccia da te il consiglio del proprio assoluto ideale, perché in qualche modo la sede naturale non si è mai diventati, solo che trova questa tipica che lui potrebbe cambiare in condizione affinché ci fosse la connessione dei lavori pubblici doveva andare in condizione. Io, quando la connessione dei lavori pubblici ha avuto la possibilità di lavorare, ha portato alla ristruzione dei consiglieri una proposta di delibera sul piano calma che non consentiva assolutamente nulla se non la possibilità di incrementare le volute della nessuna dei beni francesi. Cioè, noi ci siamo stati per il più di, in una misura assoluta, per quanto, con certe quella parte della legge che siamo calma che ci ha continuo di dispersione. è intervenuta una sentenza del Stato che ha rimosso la delibera del Comissario di Repetitizio lasciando la possibilità di fare cose rispetto alle quali noi, da un punto di vista politico, eravamo per certe cose. Mi ricordo che in quella situazione la telefonata dell'Avvocato Cagliari dove si diceva dove lui rappresentava il rammarico e quella sentenza del Stato che ci serviva la possibilità di restringere i margini ma non assuma uso del piano calma presso l'impremento delle sciliabitazioni. risposta dall'Avvocato Cagliari che, se io fossi per una militazione nel momento in cui c'è una sentenza di libertà o di qualunque organo di livello superiore che gli indirisce di operare anche se ero contare a quel tipo di indirizzo politico sia aver rispettato la sentenza del Stato ma un comportamento che è stato e penalizzato negli incontri di chi è in una posizione rispetto dell'Avvocato Cagliari rispetto a noi all'opportunità all'Avvocato Cagliari dall'articolo 7,5 del piano calma ripeto io sarei che il principio per lasciare tutte in variato anche che ci fossero un minimo di condizioni per peralimentare uno spazio produttivo sul territorio. Ho cercato però di approfondire a scontanto quelle che erano negli indirizzi. L'articolo 7 che ho nascito prevede una condizione che l'area sia in mezzo dal mio creato. allora c'è qualcosa su cui ripetere io voglio un'attività voglio lo spazio produttivo però posso fare qualcosa per alimentare un minimo di attività produttiva e che su questo siamo tutti d'accordo però è stato che su quegli anni non ci siamo mai scienziati a questa direzione. Allora immagino che se il legislatore abbia visto che potete parlare delle opportunità delle iniziative attività attività di attività e perché probabilmente a pensare e probabilmente da qui accentuare è la soluzione di la soluzione è la soluzione di io ma è la minota nonostante quella di lasciare ai nostri piedi un'altra tutto sommato condovabile tutto diritto che è accompagnata accompagnata da capannoni abbandonati e capacini cioè allora rispetto a questi posti prevenso che qui è la soluzione dell'ambientale degli attività produttivi e fascini sono città tutti quanti che quelle aree sono introduttive da 20 anni è dedicato è opportuno ma è opportuno fare uno sforzo per vendere quanto meno i viviti quelle aree o lasciate per altri cento anni nelle stesse posizioni e questo probabilmente è una serie interconcussione con i dirigenti con altri non civili e questi sono questi gli argomenti che ci hanno fatto propendere verso una soluzione che porta alla proposta del libero rispetto 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 agli mobili faticenzi rispetto agli mobili istrutti che ho avuto tutto fosse e nel mio caso trasportare la possibilità rispetto di quando ho denito dal tattino 7-5 e della decennio dare la possibilità quando devo di riqualificare la pedaglia degli agli del Grazie.